A Francesco Ascolano, San Benedettese con il mare del cuore, ha dedicato la vita all'arte sapiente della costruzione di imparcazioni. Le sue mani, diabili artigiano della cantieristica, hanno creato scapi che hanno soffiato i mari del mondo e che tuttora sfidano le acque. Generoso, sostenitore della San Benedettese di cancio, in un momento di particolare difficoltà appartiene a quella generazione di imprenditori lungimiranti e coraggiosi che ha creato lavoro e ricchezza diffusa. La città riconoscente lo ringrazio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.